Massimo Bracconi, Nordica, Doberman EDT 130, categoria Racing, novità la plastica opaca e l'EDT che mentre l'anno scorso era inserito esternamente, quest'anno è imbevuto nella plastica, quindi nello stampo, ed è in kevlar. Volumi interni rivisti e chiaramente la scarpa top di gamma per quanto riguarda il racing. Una cosa fondamentale che piacerà sicuramente è il discorso di tutta la minuteria che è intercambiabile, non è rivettata ma è affittata, quindi come nel modello atleti. La seconda scarpa è All Mountain Top, è una scarpa completamente stampo nuovo, è un cento di pianta di piede, caratteristiche sono la possibilità di intercambiare tacco e punta per avere il kenting, quindi un kenting diretto sulla suola della scarpa, la chiusura a 45 gradi, leve micrometriche, la regolazione della prima leva non solo micrometrica ma in centimetri, quindi la possibilità di alloggiare dei polpacci molto abbondanti. All'interno abbiamo una suola shock absorber e nella scarpetta queste due evidenziate con il giallo sono due canali diciamo che vanno internamente e servono per portare quella che è l'umidità del piede verso l'esterno. Hard e soft, abbiamo praticamente una scarpa nuova un po' per tutti.